Allora eccoci qua sempre con il nostro amico Rino, del quale apprezziamo agitaminare e non altro. Ora, stavamo chiedendo prima al nostro amico Rino, saluta Rino. Ciao mamma. Ricordiamo perché venivi chiamato Rino? Perché mi mettono le ombre nelle tasche, tipo di not baghega. Come il matto che stava all'opera. Esatto. Ma un consiglio culinario che vogliamo chiederti è questo, ma secondo te, se tu facessi un'insalata con le fragole, cioè una città con le fragole, chissà che mai puoi mai metteresti... Io lo sogno! Basta!